Il colpevole è il portiere Corti che non trattiene questa punizione bassa di Platini. 1-0 per l'aiuto. La replica dei Friulani è vehemente, al 22esimo c'entrano un palo con Tesser e sul susseguente tiro di Virdis Zoff celebra i suoi 41 anni domani deviando in angolo. Anche in avvio di ripresa l'Udinese è pericolosa e dal nono Zoff deve allungarsi per neutralizzare una punizione di Suryak. Al diciottesimo Bettega serve Platini ed il fuoriclasse francese dalla misura del suo valore. Galoppa per 40 metri e batte inesorabilmente Corti. 2-0. La gara è sempre viva. Al trentunesimo Zoff si salva così su attacco portatogli da Tesser e dal rimpallo su Cabrini. Trentacinquesimo nitida manovra tra Rossi, Cabrini, Rossi e Boniek che si sveglia dal letargo segnando il terzo gol bianconero. Cui fa seguito, sette minuti dopo, questa bella rete di Tardelli a conclusione di una rapida intesa con Paolo Rossi.